Ok, io credo che... Io credo che dovresti aspettare qui e lasciar fare a me. Cosa? Vuoi farti ammazzare? No, per questo preferisco andare da solo. Senti, non possiamo affrontare un'intera orda in una volta sola, neanche con le Super Molotov di Weaver. No. Quindi... Penso che scenderò lì. Mi farò notare, attirerò un gruppo per volta, poi correrò come un dannato. Troverò un modo per rallentarli e piazzare qualche trappola. Poi li faccio esplodere tutti. Senti, se usciamo allo scoperto in due sarà il caos, rischiamo di attirarseli contro a vicenda. Meglio se resti qui. Tieni d'occhio la scena. Se si mette male, scendi in moto e mi tiri fuori da lì. O hai un piano migliore? Non ce l'ho. Ho altre Molotov e munizioni nelle bolse della moto. Bene, bene. Mi tornerà utile. Esatto. Ripetimi il piano Come ho detto, tutto sta nel rallentarli Quei bastardi adorano ammucchiarsi, salire l'uno sull'altro Se trovo uno spazio stretto in mezzo a camion, un ufficio o altri ostacoli A loro servirà tempo per passare E non appena avrò guadagnato qualche metro Mi farà saltare in aria Esatto, ripeti il trucco un po' di volte E... addio Orda Questo è il piano Questo è il piano Buona fortuna Oh, la fortuna non c'entra D'accordo, vado Ti vedo, fammi sapere se serve aiuto Ricevuto Che abbiamo qui? Grazie a tutti Grazie a tutti Oh, la fortuna non c'entra Oh, la fortuna non c'entra Oh, la fortuna non c'entra Sucede all'inferno! Sucede all'inferno Non parta! Com'è, andiamo, capitale? Hai fatto fare circa un quadro. Non vorrai. Sei bravo! Vai, Saint-Jean, presto! Serve, riferderlo. Saint-Jean! Reste per lì, ridotti nella vetà. Continua. La voletta è questa! Spuri, come procedo? Ci sei quasi, caporale. Resterà un quarto. Resterà un quarto. Resterà un quarto. Resterà un quarto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. Non è possibile. Mai visto niente del genere. Hai mai avuto un'orda alle calcagna? Tutta questione di adrenalina. Possiamo vincere. Il colonnello ha ragione.